Il Liceo Scientifico Abbiamo fatto circa 350 chilometri per arrivare qui. Noi siamo musulmani, ma volevamo vedere questo monastero cattolico, perché questo monastero è la nostra storia, la nostra cultura. Negli ultimi anni la pratica da parte del fondamentalismo islamico di attaccare e distruggere le opere d'arte, considerate sacrileghe, si è fatta sempre più frequente. Mentre poco più di un decennio fa, gli archeologi iracheni tentavano di recuperare le mura di cinta di Baghdad. Sono immagini che sembrano appartenere a un'epoca lontana rispetto a quanto sta succedendo oggi. I siti archeologici e l'arte in generale sono sotto costante minaccia in quello che può essere considerato un terrorismo di tipo culturale. I primi segnali di quella che è diventata una nuova guerra iconoclasta, attualmente condotta dall'ISIS, lo Stato Islamico, risalgono agli anni degli scontri in Afghanistan, tra i talebani e Mujahideen, prima ancora dell'11 settembre. In quel periodo, il Museo di Kabul venne attaccato per una prima volta e dato alle fiamme dai talebani. L'oro dell'Afghanistan fu salvato da un custode che, mentendo ai talebani e rischiando così la vita, lo nascose in un deposito. Pochi anni più tardi, uno dei musei più importanti per la storia dell'umanità, quello di Baghdad, venne saccheggiato poco dopo i primi bombardamenti della Seconda Guerra del Golfo. Queste immagini, girate poche settimane prima dello scoppio della guerra, testimoniano come migliaia di opere come queste, di incredibile valore artistico e storico, abbiano rischiato di andare perse per sempre. Moltissime hanno subito dei danneggiamenti, non a causa delle bombe, ma delle tante predazioni. In questo contesto, oggi reso ancora più difficile e pericoloso dal controllo di numerosi territori da parte del fondamentalismo islamico, agisce da anni l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, che in Iraq e Afghanistan sta portando avanti numerosi progetti di tutela e recupero del patrimonio artistico. In Afghanistan, attraverso il restauro di molti pezzi del Museo di Kabul, oltre alla presenza in numerosi siti archeologici, con dei progetti che non sono solo di recupero, ma anche di formazione per i restauratori locali. E in Iraq, dove si è lavorato sulle opere trafugate e recuperate di Baghdad, presso il sito di Ninive, il Museo di Nasseria, e presso il sito archeologico di Ur, dove, facendo base in un presidio militare, unico luogo possibile di soggiorno, è stato avviato, con i restauratori locali, un importante lavoro di recupero delle antiche mura, partendo proprio dallo studio dei materiali originali. Quella portata avanti dai nostri restauratori è un'opera di resistenza a questa assurda guerra dichiarata all'arte e alla cultura, non solo di un popolo, ma collettiva, che, come testimonia la scritta issata all'ingresso del Museo di Kabul, è di vitale importanza per l'identità e la memoria di tutti noi.